I vostri prodotti uccidono, avete le mani sporche di sangue. I senatori americani attaccano pesantemente gli amministratori delegati di Meta, X, TikTok, Snap e Discord, torchiandoli in un'audizione alla Commissione Giustizia sui rischi delle piattaforme social per i bambini e gli adolescenti. Stanno distruggendo vite umane e minacciando la democrazia. Queste aziende vanno domate e il peggio deve ancora venire. Ha accusato il senatore repubblicano della South Carolina, Lindsey Graham, riferendosi a Big Tech. Parole accolte dagli applausi di vecine di genitori con le foto dei loro bambini morti o traumatizzati dai social. Messo in imbarazzo, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, si è rivolto proprio alle famiglie e ha chiesto scusa. Mi dispiace per tutto quello che avete dovuto passare, nessuno dovrebbe attraversare quello che voi avete attraversato. È per questo che abbiamo investito così tanto per assicurare che altri non debbano vivere quello che avete vissuto voi, ha detto illustrando gli sforzi della società. Circa 40.000 persone preposte alla sicurezza online, oltre 20 miliardi di dollari spesi dal 2016 e altri due in programma per quest'anno. Ma i senatori hanno citato i documenti interni al gruppo, secondo cui Zuckerberg ha rifiutato di rafforzare i team incaricati di individuare i pericoli per gli adolescenti online.